Il Premier Monti all'inaugurazione della Fiera dell'Evante di Bari, nel discorso del sindaco, il valore delle battaglie della CGL e il ricordo delle lotte di Giuseppe di Vittorio. Salta la prima del Don Giovanni al Petruzzelli e gli artisti si esibiscono in piazza in un concerto audizione per rivedicare il diritto ad assunzioni a tempo indeterminato. Grazie per la visione!